E' precipitato dal tetto di questa fonderia su cui stava rimuovendo dei pannelli di amianto, un volo di 8 metri prima di schiantarsi al suolo. Questa mattina è morto così un operaio di 36 anni a San Paolo d'Argon, nel Bergamasco. L'uomo di origine indiana era dipendente di una ditta di brembate di sopra, impegnata nei lavori di ristrutturazione di questa azienda, la Tora Casting, specializzata in componenti d'alluminio. Un altro infortunio ancora in edilizia, che è uno dei settori più colpiti, e ancora una volta ci troviamo a parlare di cadute dall'alto. E' da anni che come sindacato stiamo denunciando che si muore ancora come 40 anni fa. Nonostante l'innovazione e la tecnologia, il 2021 è un anno tragico. E' sempre oggi ad Asti un'altra morte bianca in meno di 24 ore, un tecnico di 56 anni deceduto dopo aver riportato ustioni sul 70% del corpo. Si allunga ancora la Spoon River delle vittime del lavoro, tre, solo nella giornata di ieri, se oltre all'operaio schiacciato da una lastra a foggia, consideriamo anche un agricoltore travolto da un trattore a chieti e un giovane guardacaccia precipitato in un dirupo in Baltellina. Nei primi sei mesi del 2021, dicono i dati dell'Inail, sono stati 531 gli infortuni fatali, cresciuti di quasi il 12% rispetto al 2009. Questa è una strage inaccettabile. Dobbiamo far comprendere che la sicurezza costituisce un fattore di successo per le imprese in termini di competitività e produttività. Una vera e propria emergenza sicurezza. Questa sera si sono tenuti i funerali di Laila e Larim, uccise il traagosto scorso dalla fustellatrice a cui lavorava in un'azienda di imballaggi nel Modenese, nonostante da tempo segnalasse malfunzionamenti alla macchina. Due finora gli iscritti nel registro degli indagati. I sindacati intanto spingono per la patente appunti che incentivi le imprese virtuose.